Il pittoresco campanile della Basilica dei Martiri, emergente dal verde delle querce del vecchio cortile del convento, continua a dominare il quadretto del paese, disegnato sul cielo di cristallo azzurrino, proprio come lo descrive Grazia Deleva nel suo libro Cenere. Per chi affonni la storia in memoria e la grande festa dei martiri si rinnova anche quest'anno con il suo immutato fascino. Fede e tradizione, concerti, spettacoli e la sosta in un viaggio che non è ai uguali. Dal 3 al 6 giugno, festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri. Il 3 giugno, lo spettacolo con Itazenda. Il 4, la serata all'insegna del divertimento con Pino e gli anticorpi e Bazz. Il 5 giugno, la processione lungo le vie del paese e il grande spettacolo di tradizioni popolari in diretta su Sardegna Live. Il 6 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna e la musica dei Triulas. Il comitato Nostra Senora del Sos Martires, l'EVA 1980, vi aspetta a Fonni per la festa dei martiri. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Il 5 giugno, appuntamento con i falconieri di Sardegna. Grazie a tutti